Tudor Royal, un orologio regale e raffinato ispirato alla tradizione. Se stai cercando un orologio che sia al tempo stesso elegante e funzionale, il Tudor Royal è il modello che fa per te. Il Tudor Royal è un orologio che si ispira alla tradizione della regalità, ma che offre delle caratteristiche moderne e raffinate. Tudor è stata fondata nel 1926 Danz Wilsdorf, lo stesso imprenditore che ha creato Rolex. Wilsdorf voleva offrire al pubblico degli orologi affidabili e accessibili, con lo stesso standard di qualità di Rolex, ma con un prezzo più competitivo. Tudor ha iniziato a produrre il modello Royal negli anni 50, come una versione più lussuosa e raffinata dei suoi orologi. Il Royal era caratterizzato da una cassa elegante, con una forma tondeggiante e da una lunetta a coste, che conferiva al modello un aspetto regale. Il Royal era disponibile in diverse varianti di quadrante, cinturino e movimento, per soddisfare i gusti e le esigenze di una clientela esigente. Il Royal era anche dotato di una funzione di data, che lo rendeva più pratico e funzionale. Il Tudor Royal è stato rilanciato nel 2020, come parte della collezione Tudor, che celebra i modelli storici della marca. Il Tudor Royal ha conservato le linee e il design del modello originale, ma con alcune migliorie e aggiornamenti. Il Tudor Royal, disponibile in varie colorazioni del quadrante e di materiali, ha una cassa più grande rispetto al modello originale. Il Tudor Royal ha anche un movimento più moderno, il calibro Tudor 2824, che ha una frequenza di 28.800 alternanze all'ora e una riserva di carica di 38 ore. Il Tudor Royal ha anche una maggiore resistenza all'acqua, fino a 100 metri di profondità. La cassa solida, spesso realizzata in acciaio inossidabile o oro, conferisce al modello una durata eccezionale. Gli indici marcati e le concette luminescenti non solo aggiungono stile, ma assicurano anche una leggibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il quadrante è disponibile in diverse varianti di colore, tra cui il nero, il blu, il grigio e il verde, con dettagli che richiamano il tema della regalità. Anche gli indici delle ore rappresentati in numeri romani e la scala dei minuti visualizzata con un chemin de fer, danno un tocco di lusso ed eccellenza. Il quadrante ha una finestrella per la data situata a ore 3, e in alcune versioni, una finestrella sulla quale sono riportati i giorni della settimana a ore 12. Indossare il Tudor Royal significa indossare una storia di raffinatezza e di eccellenza orologera. Un orologio che non solo segna il tempo, ma incanta gli sguardi con la sua maestosità intramontabile.